Conf Industria Cuneo e Università Telematica Pegaso fanno squadra per diffondere iniziative formative e valorizzare l'aggiornamento professionale dei lavoratori. La convenzione è stata sottoscritta ad Alba nella sede degli industriali della Granda. Abbiamo trovato con la convenzione di oggi, abbiamo fatto sintesi e trovato le migliori possibilità di collaborazione proprio per la diffusione della cultura che rappresenta l'humus e il volano per lo sviluppo e l'accesso alle nuove professioni. Collaboriamo con tutti gli enti di formazione a qualsiasi livello, con le università, con il Politecnico. Riteniamo però che l'Università Telematica abbia questa modalità che è premiante rispetto alle altre, cioè che consente ai lavoratori delle nostre aziende di poter frequentare lezioni anche senza essere presenti fisicamente. Questo può consentire anche a chi abbia dovuto interrompere il proprio percorso di studi di continuarlo e di arrivare alla laurea. Dare possibilità a tutti i lavoratori e non di conseguire quel sogno e quindi tramutarlo in realtà che è conseguire la laurea. Avere la possibilità di studiare tramite una connessione internet è una cosa molto importante. Ad oggi qualunque attività che noi svolgiamo è tramite un dispositivo, chi non ha un iPad, un computer, un tablet o una connessione internet. Attraverso la nostra piattaforma c'è la possibilità di seguire queste video-lezioni in modalità telematica che possono essere seguite in qualunque parte del mondo. Quindi qualunque persona può collegarsi in un momento di pausa, in un momento di vacanza. Quindi riuscire a conciliare questo percorso da dove si vuole e quando si vuole. Grazie.